Diamo il benvenuto a Luisa Hatton che ci dà la possibilità di conoscere meglio le sue opere. Abbiamo bisogno di tanta luce, abbiamo bisogno di persone, di professionisti come lei, come tutti noi, per accendere un faro su questo territorio, sulle marche, per la rinascita di questi borghi meravigliosi marchigiani che sono stati distrutti. Imparare bene l'architettura, imparare bene come ci si relaziona al mondo che ci sta intorno è molto importante perché è una cosa che si intreccia molto con le nostre vite. Siamo interessati ovviamente nella sostenibilità, ma abbiamo cercato di usare la tecnologia soft e non la tecnologia hard. La prima cosa che faccio con, come vedete, è la città come l'ambiente. E credo che uno dovrebbe provare a lavorare con quello che noi chiamiamo il luxurio di produzione. Credo che siamo arrivati a una migliore soluzione se non avevano questi problemi. Quindi, come voi sapete, tutti gli studenti di architettura, lavorando con problemi, ma non lasciano essere problemi come problemi. Questo è il trucco. Poi abbiamo cominciato a pensare a come applicare la colore e qui sono arrivato al terzo tema della polichromia dinamica. Qualcun progetto che hai, la cosa più importante è la relazione del tuo bambino con il mondo pubblico. Creare un'innovazione urbana, creare attività con il cliente che aiutano a vivere. Queste esperienze che ci vengono dai diversi professionisti che arricchiscono la nostra cultura, il nostro modo di vedere, di guardare al futuro.